I ragazzi di Corso San Giorgio, perché è una manifestazione seria, ve lo assicuro, ve lo assicuro, ve lo assicuro, ve lo assicuro, è una manifestazione seria? Sì, questo è lo specchio di Renzo, la mattina si specchia, ogni mattina lui è qua, si specchia a vedere come sta la mattina, sì. Ma voi siete un po' anni 70, un po' Michael Jackson. 24 novembre 70, sì. Ricordiamo un po' di Luci, venite che... Ma è vero che si sta per sposare? Chi? Ok. Sì, confermo, Campana sì. Campana si sposerà durante la manifestazione della passeggiata della calata per Corso San Giorgio. Forte, ma farà l'annuncio, sì, a Largo San Matteo, questo scoop, sì. Intervenite tutti perché Campana farà uno scoop, sì. Quindi Campana, venga qui mi sto commuovendo, lei è della viaggia e della relazione, Campana chiederà in sposa la sua donna. Sì, è ufficiale, era una sorpresa, adesso lei l'ha svelata, però sì, e lo farà in filo di fusione. Quindi lei insieme a Ivan Graziani, via Mario Capuani. Domani alle ore 17 a Largo San Matteo inizia l'evento di ragazzi di Corso San Giorgio. Venite, anche se nevica, piove o non piove, anche se nevica perché sarà bellissimo. Come potete vedere già ci sono iniziato a preparare, siamo i tre eroi fino ad oggi per questo grande evento e... Siamo pronti. Anche perché la calata si faceva anche se pioveva, quindi non scappate, terramani non scappate, ci sono gli ombrelli se piove e ci gustiamo il nostro corso. Ed è sempre una questione di passione poi. Assolutamente, la passione è quella che è il motore per tutte le cose. Grazie. Grazie. Grazie.